ciao a tutti benvenuti o bentornati qui sul mio canale youtube per chi non mi conoscesse mi presento io sono valentina in arte valli makeup lover e qui sul mio canale parliamo di beauty makeup e skin care a 360 gradi nel video di oggi torna uno dei format che vi è piaciuto tanto e sto parlando del format in cui utilizzo nuovamente dei prodotti che non sto utilizzando quindi creeremo questo look faremo una full face e vedremo cosa promuoverò e cosa invece boccerò prima di iniziare vi ricordo che mi trovate come valley makeup lover anche su instagram e tiktok quindi se vi fa piacere venite a trovarmi anche lì e se volete continuare a vedere video sul mio canale mi raccomando iscrivetevi lasciate un like di supporto e soprattutto se vi va commentate perché mi aiutereste tantissimo con l'algoritmo di youtube ma come sempre ho parlato abbastanza iniziamo subito con il video eccomi qua struccata come al solito direi di iniziare subito perché sarà ovviamente una full face e ci vorrà un po di tempo per quanto riguarda le labbra utilizzerò il lip plumping di astra non lo sto utilizzando tanto semplicemente perché sto preferendo altri prodotti perché un po mi infastidisce il pizzicorio e l'odore di peperoncino però è un buonissimo lip plumping e lo lasciamo agire ovviamente non leccate le labbra perché pizzica non è eccessivo il pizzicorio però sono una persona che preferisce quelli magari che danno quella sensazione di freschezza rispetto a questi che pizzicano come premier occhi utilizzerò un primer che mi era stato gentilmente regalato dalla mia amica marianna ed è il primer di smashbox che ho messo in questo contenitore perché era una piccola dose non lo sto utilizzando tanto perché lo trovo un po secchino per quella che è la mia palpebra nonostante io comunque abbia una palpebra oleosa quindi lo applico con il pennello poi magari lo ricomprerò nella confezione originale per capire se sono io un disastro o magari ha qualche problema in questo bottino semplicemente lo metto già su entrambi gli occhi e poi lo tampono con le lita diciamo che è un primer che poi sento che tira proprio la palpebra e non è qualcosa che mi aggrada tanto però ripeto potrebbe essere che magari abbia avuto qualche mutazione nel pot farò prima la base oggi e voglio utilizzare questo primer di kiko che è un primer altamente idratante lo sto utilizzando poco perché sto utilizzando come sapete sempre i soliti prodotti però mi rendo conto che è molto molto valido lo metto con questo pennello di shiglam da fondotinta è valido perché comunque è molto idratante e in questo periodo che la mia pelle sta chiedendo pietà sicuramente mi è utile metto una bella dose e in sostanza un allora ve lo leggo wonder woman power fierce prep face primer base viso illuminante però vi assicuro che è anche molto idratante e poi finisco di stenderlo con le dita ha un odore buonissimo sembra un odore di dolcetto se avete la pelle secca come la mia ve lo consiglio come vedete il planting di astra sta iniziando a fare effetto l'unica cosa che non mi piace più di tanto è che quando lo metto il rossore arriva fino a quassù eppure io comunque non esco dai bordi quindi non ho capito comunque il pizzicorio è molto molto sopportabile è che se non vi piace la sensazione capisco che possa non essere molto piacevole passiamo ora al fondotinta ed è da tantissimo tempo che non utilizzo il close up futuristic foundation di nabla era uno dei miei fondotinta preferiti del periodo perché lascia un effetto cipriato al viso è abbastanza coprente rispetto ai prodotti che sto utilizzando di solito e non lo sto utilizzando proprio perché sto preferendo prodotti più leggeri la colorazione che utilizzo io è la l20 e praticamente mi va benissimo prendo la spugnetta e lo stendo oggi non c'è il martello a facci compagnia ma c'è il seghetto qui non vi ragazze qui no assolutamente non vi annoiate mai lo stendiamo lo stendo in metà viso così vi faccio vedere l'effetto del prodotto la colorazione sembra più chiara del mio incarnato ma vi garantisco che io nel collo sono così chiara e quindi va benissimo ovviamente essendo un fondotinta un bel po' coprente lo notate di più questo è l'aspetto della pelle con una sola passata di prodotto con la blender quindi capite bene che un po' si mangia il prodotto però guardate che coprenza cioè qua ho tante discromie e qui è praticamente tutto coperto è un buonissimo fondotinta e non mi secca la pelle però vi ripeto sto preferendo fondotinta più leggeri come per esempio quelli di essence quindi lo stendo anche dall'altra parte ne basta pochissimo e secondo me avete una copertura medio alta parlo della blender ovviamente se utilizzate il pennello è molto più coprente io con questi prodotti preferisco un aspetto un pochino più naturale diciamo così adesso guardate quanto ha neutralizzato il rossore dello sfogo che ho sul viso è veramente molto molto bello e poi ripeto si stende facilmente non mi ha mai dato problemi questo fondotinta anzi l'ho utilizzato anche ovviamente su di me per delle cerimonie ed è durato tutto il giorno quindi il prossimo prodotto che utilizziamo è il correttore oh my love di clio non lo sto utilizzando ultimamente perché non ne sento la necessità per coprire le occhiaie eccessivamente non ho degli alloni molto marcati e lo utilizzo solo tra virgolette al bisogno però mi rendo conto che è un correttore che dovrei utilizzare di più perché mi piace molto quindi lo metto nelle zone classiche dove metto il correttore questo è nella colorazione 04 devo dire che mi va bene perché è abbastanza giallo ne basta poco e copre tantissimo l'unica pecca che trovo di questo correttore è che non va settato con troppa cipria perlomeno con il mio tipo di pelle perché altrimenti tende a farmi effetto cake sul viso però è validissimo ovviamente con i giusti accorgimenti riuscite a fare un bel make up io non boccio un prodotto se per esempio non posso fare lo step della powder un esempio perché avendo comunque la pelle secca d'inverno non è che me ne freghi più di tanto perché meno setto meglio è questo ovviamente per il mio tipo di pelle questo prodotto trovo che anche non settato sul mio contorno occhi vada bene ovviamente io per sicurezza un minimo lo metto ed è iper coprente come vedete ovviamente ripeto se dovete fare color correction perché avete un'occhiaia molto scura fatelo comunque secondo me se avete degli aloni molto molto presenti la correzione dell'occhiaia scura va sempre fatta a prescindere dal correttore coprente o meno per settare il tutto fare contour highlight e blush utilizzo la contour blush highlight di astra questa qui l'ho utilizzata tantissimo in passato ed è una delle mie preferite però in quest'ultimo periodo mi ritrovo ad utilizzare di più prodotti in crema perché trovo che sulla mia pelle vadano nettamente meglio con un pennellino un po fluffy prendo la powder e setto leggermente il contorno occhi non troppo perché ripeto altrimenti mi fa un brutto effetto gli altri punti dove ho messo il correttore giusto per essere sicura proprio molto velocemente con un altro pennellino questo è di wet and wild prendo il bronzer questa è una colorazione caldina e inizio a scaldare il viso queste polveri di astra sono veramente sottili e mi dispiace a volte non utilizzarle di più questa è la pink romance forse la 01 sì forse la 01 perché è la più chiara l'altra è mauve romance forse non ricordo hanno un costo bassissimo queste palettine però hanno tutto l'occorrente per scolpire il viso in tre secondi cioè bellissima ripeto sto preferendo nettamente i prodotti in crema in questo periodo li ho sfruttati tantissimo anche d'estate sempre con lo stesso pennello prendo il blush che è satinato è bellissimo anche questo blush e lo tamponiamo a di sopra del bronzer vi dà un effetto sanissimo guardate che meraviglia poi la colorazione ripeto a me piace tanto avete anche delle colorazioni un pochino più calde un pochino più malva quindi trovate anche magari qualcosa che faccia per voi poi se è eccessivo tampono con la blender e rendo il tutto più omogeneo così guardate che meraviglia è proprio un effetto super naturale secondo me come fixing spray ho utilizzato questo di makeup revolution che sto terminando e non sto utilizzando da tanto tempo non utilizzo quello con i glitter perché per carità e tampono dove ancora è umido è giusto per rendere tutto più bello fino ad ora non mi sta deludendo la base prendo ora un pennellino fluffy e prelevo il l'illuminante dalla palette di astra che è molto molto delicato quindi non aspettatevi qualcosa di power come quello della collezione glow couture però secondo me per tutti i giorni è super super carino quindi se non siete amanti dell'illuminante super power questo è top con la base quindi ci siamo direi di fermarci così come palette occhi ho scelto dalla makeup collection che abbiamo riordinato insieme la de saharan by juvia's place che è una delle palette di juvia's place che possiedo e le colorazioni in questione sono queste sono molto carine e mi rendo conto che non sto più utilizzando queste palette perché diventando praticamente monotona sto utilizzando sempre le stesse però dovrebbero avere più visibilità secondo me prelevo come primo colore cassina che è praticamente questo marroncino qua sotto e lo stendo nella transizione in questo modo prendo però un pennellino un po più fluffy forse è meglio così diamo un effetto più diffuso sono delle belle polveri non sono iper burrose sono sincera però per tanto tempo mi ci sono trovata benissimo quindi le voglio rispolverare anche perché con questi video poi capiamo che cosa declatterare faccio ovviamente un look molto semplice lo tampono anche da questa parte con un pennellino fluffy angolato prendo jamila che è praticamente l'arancionino qua nella palette lo inizio a tamponare qui di lato e do intensità guardate quanto sono scriventi impressionante la palette e con il primo pennello sfumo i bordi con un pennellino un po fluffy prendo soccoto che è praticamente il rosso qua sopra e lo sfumo bene in questa zona per dargli un pop di colore e faccio la stessa cosa anche da questa parte con dei movimenti circolari non so se mettere un dorato magari mettiamo per smorzare e prendo questo che si chiama senegal mamma mia che bello è molto molto carino speriamo che ci stia bene ma penso di sì wow se guardate quanto è pigmentato c'è lo stesso anche nell'altro lato prova a mettere nell'angolo interno questo colore che si chiama iman per dare un punto luce ok scrive e anche tanto lo porto fino a quassù così apriamo ulteriormente lo sguardo lo trovo un colore molto molto per questo periodo sporco un po anche la rima inferiore mixando soccoto giamilia che sono i colori più aranciati come prodotti per le sopracciglia non ho nulla che non sto utilizzando utilizzo il gel di astra giusto per sistemarle spesso mi chiedete come faccio ad avere le sopracciglia così non le coloro faccio semplicemente magari un ritocco dall'estetista togliendo i peletti superflui ma non gli faccio niente diciamo che è genetica ho la fortuna di averle così grosse e dire che quando ero più giovane le odiavo le volevo più fini metto un po di illuminante sotto l'arcata come mascara che non sto utilizzando da un sacco di tempo uso il decolossal car bounce il mascara di maybelline uno degli ultimi usciti non mi era piaciuto e quindi per un po di tempo l'ho accantonato vediamo se possiamo dargli una possibilità in più non metto ciglia finte ovviamente perché le ciglia finte le utilizzo tutte quindi non sarebbe il caso ovviamente se mi sporco poi ripuliamo una volta asciutto allora come lunghezza non è male però sembrano finissime le ciglia non lo so nel frattempo che asciuga faccio all'altro occhio ok fatto ciò adesso tolgo il lip plumping comunque la differenza si vede sono molto più distese le labbra e ha smesso di pizzicare giustamente e hanno preso colore come vedete che stimola proprio il microcircolo non ho delle matite labbra che non sto utilizzando quindi prendo questa di essence giusto per delineare le labbra perché poi voglio mettere un rossetto simile gloss come rossetto utilizzo questo di kiko che ha la rosa sopra che è della linea blossoming beauty ed è il numero 03 cioè guardate che meraviglia il rossetto non lo sto utilizzando perché molto spesso me ne dimentico solo per questo perché è molto molto bello comunque ha un effetto lucido immaginatevelo un po come se fosse avete presenti il rossetto in stick le madame lip stilo di astra uguale bene questo è il look finale io spero che vi piaccia alla fine i prodotti mi sono piaciuti tutti ad eccezione del mascara che ancora non riesco a capire nel senso che si le allunga le separa però non le separa tanto quanto gli altri mascara che io adoro in alcuni punti sono proprio appiccicate e poi non lo so non dona neanche un minimo di volume non mi piace più di tanto però per il resto direi che è tutto promosso la base è molto bella molto naturale anche se molto coprente gli occhi mi piacciono tanto hanno questi colori che secondo me richiamano l'estate a tutti gli effetti e direi che anche il primer ha performato bene quindi alla fine dei conti anche questa volta c'è andata bene come sempre vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore per farlo è lasciare un bel like iscrivervi al canale mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita dei nuovi video anche per oggi è tutto io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video ciao raga